Oggi Villareal gioca a prescina, come è andato il pranzo? Bene. E gli scelti non avete parlato? No, c'è grande amicizia tra i miei proprietari del Villareal, si è stabilita già dall'Europa League dall'altro anno, è proseguita quando sono venuti per la Champions a Napoli, padre e figlio sono delle persone estremamente garbate, mi hanno portato oggi pomeriggio a visitare il loro centro, che è un bellissimo centro, dove ci sono tre campi di calcio regolamentari in erba e quattro campi di calcio.